Ti volevo chiedere come la Fiorentina arriva alla partita più importante della stagione, come sentite il clima in città e in quale condizione arrivate a Roma? Arriva, che non è poco in questo punto, ma credo che la squadra arriva bene, è una finale. Tutti i giocatori della rossa hanno una speranza in questa finale, perché per tanti è la prima finale della sua vita come calciatore, quindi credo che sia quello già un valore. Io per primo ho tanta voglia perché è la mia prima finale, è la prima possibilità di avere un titolo, quindi credo che già sia tanto. Quanto sente la squadra, la mancanza di giocatori importanti come probabilmente Rossi, Quadrado o Gomez? Tanto, quando mancano i giocatori più forti, mancano tantissimo, lo abbiamo visto, a volte non abbiamo neanche attaccanti per giocare e dobbiamo fare altre cose, ma credo che la squadra altrimenti sta facendolo bene anche senza di loro, quindi dobbiamo essere orgogliosi pure di questo. Ciao, buonasera, vorrei chiederti un giudizio complessivo sul Napoli e poi sarà una partita dove ci saranno un sacco di spagnoli, quindi un giudizio anche su Cajon, su Reina, su Albion, insomma, che sono l'altra parte della Spagna. No, il Napoli è una squadra fortissima, stanno fatti per andare avanti in Champions League, per arrivare ancora in Champions League, hanno preso dei giocatori bravissimi, come hai detto, pure Higuain e tutti questi spagnoli, credo che stanno giocando veramente bene e loro possono essere sicuramente favoriti, ma noi abbiamo voglia di giocarcela e ci proveremo. Mi ha colpito moltissimo una cosa che hai detto recentemente, ho sentito l'intervista e hai detto che in cinque minuti io posso firmare un contratto, cioè se mi diano da lungo hanno cinque minuti. Non è una cosa semplice, di solito i giocatori italiani dicono così, voglio arrivare in fondo alla stagione, poi mi metterò a sedere con la società, parleremo, valuteremo per l'interesse di tutte e due. E tu invece sei stato molto… cos'è che ti fa sì che tu abbia questa certezza? No, io ce l'ho abbastanza chiaro, dall'inizio di quest'anno che il giorno che la società ha voglia di parlare con me, come procuratore, con me non sarà, credo, nessun problema. Ho voglia tanta di rimanere qua perché sto benissimo qua, perché mia famiglia, che è una cosa importantissima per me, sta benissimo qua, quindi credo che per me quello conta tantissimo. Il giorno che la società vuole fare qualcosa per me, come ho detto, sarà cosa di cinque minuti, perché credo che se loro vogliono siamo nella stessa strada tutti e due. Ciao Borca, senti, dicevi appunto che state molto bene in questo momento anche fisicamente e che siete stati bravi a giocare anche senza attaccanti. E la dimostrazione è stata anche a Bologna. Ti chiedo, ma in questo momento pensare a una Fiorentina che gioca senza attaccanti e quindi diventa imprevedibile per la difesa in Napoli, potrebbe essere davvero un'arma in più, visto che siete così bravi a farlo? No, credo che un'arma in più sarebbe Giuseppe Mario in rossa, almeno per farle decidere al mister chi deve metterli e chi deve giocare, ma come non sono con la possibilità di giocare, o almeno non si sa ancora, ma è difficile, credo che dobbiamo fare il meglio con quello che abbiamo e stiamo dimostrando che anche senza di loro siamo stati bravi a fare un gioco diverso da quello che facevamo con loro. Ciao, ti chiedo su una cosa che non riguarda la Coppa Italia, ti chiedo se domenica hai visto le immagini del Madrigal, quello che è successo a Dani Alves, penso che ti abbiano colpito perché si è svolto in uno stadio che tu conosci molto bene, ti aggiungo, stamattina Dani Alves in un'intervista a una radio brasiliana ha detto che la Spagna ha un problema di razzismo, ti chiedo se anche tu l'hai notato e che effetto ti ha fatto quel gesto. Devo ti chiedere una cosa. Credo che la società mondiale ha un problema di razzismo ancora, purtroppo è così, è una questione secondo me di educazione, quando i genitori ti educano bene a casa non fai quelle cose. e poi mi dispiace tantissimo perché conosco benissimo i tifosi del Villarreal e sempre uno può fare queste cazzate, ma secondo me la tifosi del Villarreal è molto di più di quello che si ha visto. Ti chiedo semplicemente un pensiero, l'hai già fatto su Twitter, sull'eredità che lascia al di là del calcio a livello umano Villanova. No, incredibile, no, vedere... Queste cose ancora, ma credo che la vita è così. Io ho sofferto quest'estate una cosa simile, sono cose dure da vivere, ma sicuramente a tanta gente farà più forte. E' sicuro che i suoi figli, soprattutto, che dovranno vivere senza di lui, sarà dura, ma le farà più forti. Ciao Borca, ieri sera hanno chiesto a Tevez perché il Cittino lo chiama nazionale, e lui ha risposto perché forse non ha Sky. Ecco, se ti fanno questa domanda a te, sei, diciamo, molte volte hai parlato di questa cosa, però ora che si avvicina al mondiale, pensi di avere da 0 a 100 qualche possibilità? Ecco, su questo argomento. Lo che dovrei dire in questo caso è che io ho ancora una possibilità e che devo lottare fino alla fine. Se devo parlare sinceramente, credo che ho 0 possibilità. Sinceramente. Ciao Borca, due cose. La prima, abbiamo parlato tanto delle assenze, se senti su di te un peso particolare di responsabilità per prenderti la squadra sulle spalle, perché sei uno e sarai uno dei giocatori più importanti in campo. No, non credo che sia così. Sempre ho detto, sempre dirò, che la forza di questa squadra è stato il gruppo. Anche se abbiamo dei giocatori forti che possono vincere anche delle partite da soli, credo che dobbiamo pensare di più nel gruppo individuale. E la seconda, sul tuo rapporto con la città. Se paradossalmente la famosa vicenda della squalifica dopo Parma ha contribuito a rafforzare ulteriormente il tuo rapporto con la città, creando qualcosa di ancora più particolare. Grazie. Sì, l'avevo chiaro già prima di tutto quello che è successo, ma ovviamente tutto quello mi ha colpito. Si può capitare di più, perché la gente è stata vicina a me, a mia famiglia, e quello per me è stato bello e importante. Porca, buongiorno. Il fatto che una piccola città come Firenze porti 27.000 persone in un'altra città, io credo che sia a questi tifosi si può dire che loro la Coppa Italia l'hanno già vinta. Non so quali tu pareri. No, è bellissimo sempre. Non solo perché sia la finale di Coppa Italia, siamo andati a Verona, a tutti questi stadi, è sempre stato pieno di tifosi della Firentina. Quello è una forza in più per noi, sempre avere tutta la gente dietro a noi è importantissimo, e in questa finale ancora di più, perché possibilmente in Napoli possa avere una squadra meglio, ma noi abbiamo questi tifosi che aiuteranno per giocarsela al Napoli. L'altra cosa che ti volevo chiedere è questa. Secondo te anche 15 minuti di Rossi potrebbero essere importanti per questa squadra e in attesa di Rossi se l'ipotesi di giocare come falso 9 è un'ipotesi che ti trovi credibile, fermo restando e poi decide Montella naturalmente, ma se è un ruolo che ti preoccuperebbe oppure no? No, forse ho giocato pure il terzino sinistro una volta, credo, con il Real Madrid, quindi quello non mi preoccupa, mi preoccupa giocare se sono dentro dei 11 quello che voglio io. e poi la prima domanda no? Ah sì sì, no, anche uno, se la prende la butta dentro mi basta. Che tipologia di partita ti aspetti per il sabato sera? Come te la immagini? Me la immagino un po' come quella che abbiamo giocato adesso a Napoli poco tempo fa, loro con voglia di vincere veloce che escono forti dall'inizio e noi proveremo a avere un po' la palla e provare a che non fanno così tanto pericolo come hanno fatto all'inizio di quella partita. Grazie. Grazie a tutti.